... Mix di droghe ai clienti smantellata la banda e scattata all'alba nella zona di Castellamare l'operazione Speedball dal nome del mix di stupefacenti che veniva venduto e seguite 16 misure cautelari, intanto nuovi particolari sul traffico di droga tra Colombia e Napoli. No all'estese, Napoli vince le paure e fa discutere la significativa partecipazione di cittadini alla marcia di protesta a San Giovanni a Teduccio. Giovani associazioni hanno ribadito il no alla camorra, ora tocca alle istituzioni intervenire. Strage bus familiari in piazza, nuova protesta dei parenti delle vittime nella tragedia dell'A16 in cui morirono 40 persone, chiesto alla procura di inserire la testimonianza di una sopravvissuta. Intanto il meccanico rivela, nessuno mi disse di controllare i freni. Universia di hockey per i lavori al vigorito, lo stadio di Benevento si rifà in look in vista dell'evento sportivo del 2019. La giunta comunale ha deliberato nuovi interventi che consentiranno di migliorare i servizi a favore dell'impianto. Nuovi parking per la città del futuro. A Salerno inaugurate le aree di sosta nella zona Irno, nei pressi della cittadella giudiziaria. Il sindaco spiega strategia utile per decongestionare il centro della città. E l'assessore De Maio annuncia nuovi parcheggi. Una strada per il santo, omaggio ai quartieri, intitolata Una strada alla Marianella a Sant'Alfonso dei Liguori. Il sindaco dei magistris, tra la gente che aveva raccolto le firme, abbiamo dato seguito alla volontà popolare. Tra i promotori, Enzo Abitabile. Eccoci, buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione regionale del canale 696. In apertura la cronaca è scattata all'alba di oggi l'operazione Speedball in alcuni comuni vesuviani. 16 arresti, 5 le piazze di spaccio smantellate in diversi comuni. Vediamo. Operazione Speedball a Castellammare, nuovo colpo alla camorra con il blitz dei carabinieri. Sono scattate 16 misure cautelari. L'operazione prende il nome dal mix di droghe assunto da alcuni clienti della rete di spaccio, messa in piedi tra alcuni comuni vesuviani. Gli arresti sono stati messi a segno dai militari di Castellammare di Stabbia, alle prime luci dell'alba, con la notifica di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Torre Annunziata, su richiesta della procura nei confronti di 16 indagati, ritenuti responsabili a vario titolo di spaccio di stupefacenti, porto e detenzione illegale di armi. Quattro arrestati sono stati portati in carcere, nove ai domiciliari, mentre per tre è scattato il divieto di dimora nel comune Stabbiese. Gli indagati gestivano cinque piazze di spaccio, tre a Castellammare, una Torre Annunziata, un'altra a Santa Maria la Carità. Alcuni dei destinatari degli arresti, inoltre, consegnavano addirittura le dosi di droga anche a domicilio o sui luoghi di lavoro degli assuntori. Insomma, una sorta di servizio Pony Express della droga, per aumentare l'efficacia del servizio di spaccio. Intanto ieri, tra Marano e altri comuni del Napoletano, era stata messa a segno un'altra imponente operazione contro il narcotraffico. Nella rete degli arrestati è finito anche un carabiniere, che solo 12 anni prima aveva addirittura ricevuto un incommio proprio per la sua lotta al narcotraffico. Lui, un brigadiere, avrebbe favorito la rete di spaccio, forse anche rivelando atti coperti, con l'aggravante di aver favorito quei clan che lui, almeno sulla carta, avrebbe dovuto combattere. Da ieri è in cella il brigadiere, lui che per anni è stato il punto di forza dei reparti investigativi di Castello di Cisterna. Bambini in marcia con le parrocchie, la gente del quartiere di San Giovanni a Teduccio, per dire basta alle stese di Camorra, una parata colorata e festosa. Mancavano però molti rappresentanti politici e istituzionali. Vediamo. Metterci la faccia a scendere in strada per sconfiggere la paura delle stese, per dire basta a proiettili vaganti che colpiscono persone innocenti a caso. San Giovanni a Teduccio, il quartiere difficile che da mesi è teatro di raffiche di colpi di arma da fuoco, ha deciso di marciare per testimoniare la volontà di non subire più la strategia della paura. A ritmo di tamburi battenti, un migliaio di bambini provenienti dalle 11 scuole di Napoli e rappresentanti delle parrocchie del territorio sono partiti da Parco Massimo Troisi al grido di io non ci sto. Con una bella X sul nonno, no? Un po' per giocare con le parole. Nel senso che io non ci sto alle stesse, non ci sto ad avere paura, però io sto qui, io voglio esserci. Guardate, fare la marcia è già un risultato, perché molti avevano paura di venire. Ancora qualche minuto fino a fa una mamma mi ha detto ho paura di venire. Forse ci sono le zone più turistiche che sono più curate, le zone più importanti dove abitano persone della medio-alta borghesia e quindi se la curano bene. Però sicuramente molta parte della città vive male, vive male. Ma di rappresentanti politici e istituzionali in marcia se ne sono visti pochi. soddisfatti ugualmente i promotori. Loro sono piccoli, ma sono anche adulti, perché sono abituati a vivere in contesti difficili, non avattati, non protetti. Loro vogliono essere qui, questa non è una costruzione. Noi investiamo sulle loro coscienze, loro sono il futuro, noi diamo tutto per loro e speriamo in un futuro migliore. Sembra un po' di retorica, ma non lo è, noi ci crediamo, siamo la scuola. Andiamo ad Avellino. La strage del bus dei pellegrini sull'A16 riprende il processo. In aula l'attenzione dei familiari che chiedono tempi più brevi per le udienze. A testimoniare davanti al giudice, per la prima volta è arrivato il meccanico del bus. Sentiamo. Ancora tensione e soprattutto rabbia davanti al tribunale di Avellino, dove questa mattina si è svoltano nuove udienze del processo per la strage del bus. I parenti chiedono ancora una volta che il processo venga accelerato e che in aula possano testimoniare i superstiti. Noi vogliamo assolutamente, prima possibile, un colpevole. In cinque anni sono cambiate tutto, è cambiato tutto. Noi siamo stanchi di tutto quello che sta accadendo, siamo stanchi. Quello Nugersi, anche se era a norma, il pullman sarebbe precipitato. Quindi la mia domanda in tutta l'autostrada, i Nugersi sono a norma? In aula intanto, davanti al giudice Buono, ha testimoniato per la prima volta il meccanico del bus Pasquale Favilla che a due giorni dall'incidente aveva sentito al telefono Gennaro Lametta, proprietario del bus. Una conversazione telefonica fatta riascoltare in aula. Il tecnico del pullman ha detto di aver sostituito soltanto i filtri del gasolio ma non gli era stato ordinato la manutenzione o la sostituzione dei freni. Neonata, morsa da un topo nella culla nel Salernitano, è successo ad una bambina di circa un anno ad accorgersene i genitori che hanno visto il grosso roditore fuggire via dal lettino. La bambina, che ha riportato alcune ferite agli arti, è stata portata negli ospedali di Battipai e Deboli presso il reparto di malattie infettive. Le universia di lo stadio di Benevento si rifà il look in vista dell'evento sportivo del 2019. La Giunta ha deliberato per i nuovi interventi. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta nel servizio che segue. Lo stadio Vigorito, già un'eccellenza, sarà ancora più bello. Annuncia i nuovi interventi alla struttura sportiva di Via Santa Colomba l'assessore ai lavori pubblici Mario Pasquariello dopo l'aggiunta di questa mattina a Palazzo Mosti. I progetti esecutivi dei due impianti che saranno finanziati con i fondi delle universiadi, il Vigorito che veramente dopo questo intervento diventerà oltremoto, perché già lo è, ma un gioiellino, lavori importanti che vedranno le sedute non solo nei distinti, dove saranno totalmente cambiate, saranno aggiunte sedute con gli schienali, ma anche nelle due curve, il rifacimento della tribuna stampa. Quindi l'abbattimento di quella attuale, l'arretramento e poi finalmente la strada che ci è stata chiesta alla Questura per riaprire il parcheggio davanti al settore distinti. E ancora interventi di videosorveglianza, illuminazione, lavori per le torri, faro e un sistema wifi avanzato. In giunta ha licenziato anche il progetto esecutivo per il riattamento dell'impianto di rugby di Via Pacevecchia, dove sono previste anche in questo caso altre gare delle universiadi. Oggi abbiamo approvato il primo progetto esecutivo di quelli del piano periferie, su un immobile comunale sito in Pacevecchia, dove una volta si teneva il mercatino, poi utilizzato in parte come chiesa parrocchiale, fin quando non c'è stata la realizzazione della nuova chiesa. Poi abbandonato, lo riattiamo, un progetto di 700 mila euro, finanziamento pubblico, ripeto, piano periferie, e sarà utilizzato come casa di quartiere, nel senso che sarà utilizzato per progetti di carattere sociale. Inaugurati i nuovi parcheggi nella zona di Via Irno a Salerno, il sindaco. Così decongestioniamo una delle aree più critiche della città. Intanto l'assessore alla mobilità, De Maio, illustra il piano complessivo per la sosta a Salerno. Vediamo. Una soluzione che darà rispiro ad un'area congestionata, utilizzando lo sforzo di riqualificazione urbana della zona Irno. Taglio del nastro questa mattina a Salerno per i 66 posti auto pubblici, dislocati su due piani interrati, ai quali se ne aggiunge un altro di pertinenza privata all'Irno Center. Obiettivo decongestionare uno degli snodi critici della città e avviare un più ampio progetto di cambiamento su tutta la Lungo Irno. Credo che con questa iniziativa intanto alleggereremo la brutta pedutine della sosta in doppia fila, che crea un imbuto qui, proprio sulla strada prospicile della Via Irno. Le iniziative che abbiamo in animo di portare avanti per quanto riguarda la Via Vinci Prova, con un altro importante impianto di parcheggi, e credo che in qualche modo comincia a delinearsi la possibilità di un allungo irno, di un'area in qualche modo correlata che passo dopo passo attenua i disagi e promuove una situazione di ordine nel quartiere. Per l'assessore Mimmo De Maio l'inaugurazione è stata l'occasione anche per tracciare un quadro più ampio del piano per la sosta in città. Sicuramente l'aspetto legato al completamento dei lavori di Piazza della Liberta sarà l'elemento che potrà determinare tutta la politica legata al sistema dei parcheggi della nostra città. La fruizione di 750 posti auto sarà determinante e condiziona la possibilità poi di immaginare ulteriore aereo di sosta. Stiamo ragionando sempre col genio civile, anche se c'è ancora un rapporto da definire con chi attualmente ne fruisce, in particolar modo la Guardia di Finanza, però anche nel caso specifico, come dicevo prima, io credo che il destino e le opportunità su quell'area sono legate all'esito dei lavori di Piazza della Libertà e quindi capire come queste due aree possono relazionare tra di loro. Parliamo ancora di viabilità. Per tutto il mese di maggio stop alle auto inquinanti di vecchia produzione. Ad Avellino partirà il 30 aprile la nuova ordinanza anti-smog. Sarà un mese di maggio di restrizioni e di vieti. Partirà dal 30 aprile, infatti, la nuova ordinanza anti-smog che vieterà per un mese la circolazione ai vecchi mezzi inquinanti. Questa mattina a spiegare nei dettagli l'ordinanza il sindaco Paolo Foti e l'assessore all'ambiente Augusto Penna. Non potranno circolare per il mese di maggio i veicoli che siano Euro 0, Euro 1 o Euro 2 a benzina e i veicoli 0, 1, 2 e 3 diesel. Si tratta dei veicoli più inquinanti. Sono veicoli però molto datati e costituiscono solo una aliquota residua del parco macchine circolante. Abbiamo fatto salva una fascia oraria che è quella mattutina fino alle 9 e mezza, quella pomeridiana dalle 12 e mezza alle 4 e quella serale che possono garantire comunque anche per questi veicoli gli spostamenti casa-lavoro, casa-scuola e quindi ridurre ulteriormente i disagi. Durante la conferenza è stata annunciata anche l'inaugurazione della nuova control room presso il comando di polizia municipale di Avellino. Il comandante dei caschi bianchi Michele Arvonio ha spiegato che saranno controllate in maniera capillare tutte le zone della città. Abbiamo realizzato una centrale operativa con videosorveglianza monitorando la città con due operatori che possono allertare le pattuglie con una cartografia nell'immediatezza. Intitolata una strada a Sant'Alfonso Maria dei Liguori nel quartiere Marianella dove era nato il santo ed è l'occasione per fare festa. Vediamo. Un omaggio al figlio di un quartiere difficile ma anche una risposta ad una petizione popolare partita dal basso. Festa a Napoli per l'intitolazione di una strada a Sant'Alfonso Maria dei Liguori al quartiere Marianella. Un riconoscimento sollecitato dai residenti a cominciare dall'artista Enzo Avitabile impegnato in un percorso complicato in un quartiere difficile di Napoli. Per il sindaco Luigi De Magistris è stata una grande giornata di festa. Mai come in questo caso c'è stata una petizione popolare straordinaria da parte di tutto il quartiere, dell'associazione, del maestro Enzo Avitabile che l'ha voluto fortemente ma devo dire di tutte le istituzioni. Quindi noi abbiamo sancito formalmente la volontà popolare di Marianella che ha una grande identità ed oggi è un bel giorno di unità della città attorno a Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Non più di dieci anni fa ebbe questa visione di ricostruire questo bordo. Questi sono dei delimitatori culturali che decidemmo di utilizzare. chiaramente non solo io, ma insieme al popolo, le associazioni di questo quartiere. Lì è nato Sant'Alfonso, mi sembrava giusto. Questa è la mia terra, è un recupero delle nostre radici, della nostra identità e quindi ci sarò sempre. Si cerca di fare del nostro meglio in un quartiere che, insomma, c'è un insegnamento urbano che di per sé porta comunque dei problemi che di non vista, di non visibilità. I ragazzi cercano di, noi cerchiamo di guidarli verso un cammino di probabilità e di sogni. Torniamo ad Avellino, il Partito Democratico in piena crisi. Per Di Guglielmo il congresso si farà, ma per la corrente che fa capo al De Caro invece ci sono solo accuse e minacce di divisione. Vediamo. Il congresso del PD irpino si svolgerà il 22-23 aprile. La segreteria nazionale ritiene che si può procedere regolarmente. Le operazioni nei circoli sono a buon punto e niente lascerebbe supporre il contrario. Se non per il fatto che una buona parte dei demi irpini, quelli che fanno capo a Umberto del Basso De Caro insieme a Famiglietti e De Luca, quelli che in sostanza sostengono il candidato Michelangelo Ciarcia alla segreteria, non sono affatto d'accordo. E lo strappo, che fino ad ora si intuiva ma rimaneva latente, si è consumato proprio in queste ore. L'altro candidato alla segreteria, Giuseppe Di Guglielmo, ha incontrato la stampa per presentare il programma, anche in vista delle amministrative di giugno. Le fibrillazioni del PD negli ultimi anni o mesi sono sempre all'ordine del giorno. Quindi io spero che ci sia un momento di serenità, di unione, di condivisione sui contenuti e su quello che sarà il Partito Democratico nel prossimo futuro. È una sfida importante, siamo dopo il 4 marzo, dove i cittadini già hanno dato una risposta, o comunque hanno dato una lettura, una bocciatura, se vogliamo dirla così, al Partito Democratico. Quindi è importante stare uniti e centrare gli obiettivi. De Caro accusa qualcuno ha lanciato un'OPA sul PD. Vigileremo con cura perché qui manca trasparenza. E aggiunge, non siamo di fronte ad una irregolarità, ma ad un imbroglio colossale. Sarebbe un gravissimo errore, ha proseguito l'esponente politico, accettare questa situazione. Siamo noi il vero PD. A questo punto è chiaro il rischio che questa spaccatura avrà sulle candidature al Comune di Avellino. E De Caro lo afferma chiaramente. Adesso anche l'ipotesi di una lista civica al 10 giugno è probabile. Al via il processo a Benevento per il tentato omicidio del regista e attore Roberto Azzurro ha coltellato l'estate scorsa nel sannio. Sentiamo. Disposta dal GUP Loredana Camerlengo del Tribunale di Benevento la perizia psichiatrica per il 38enne brasiliano, accusato di aver gravemente ferito l'artista napoletano Roberto Azzurro. La perizia sollecitata dalla difesa è stata disposta nel giudizio abbreviato a carico di Paolo Francisco da Silva. In carcere da otto mesi con l'accusa di tentato omicidio del regista teatrale, colpito anche con una pietra. Secondo la ricostruzione degli inquirenti i due non si conoscevano. Quel venerdì sera a Benevento si erano incrociati nella zona della Rotonda dei Pentri, dove Roberto era arrivato alla volante di una matiz. Paolo era invece in sella ad un ciclomotore e l'avrebbe avvicinato ed avrebbe avanzato le sue richieste. Il 53enne le aveva respinte e lui a quel punto avrebbe estratto un coltello e l'avrebbe usato contro Roberto, colpendolo alla testa, poi con una pietra. Paolo lo avrebbe inoltre costretto ad entrare nel bagagliaio della Matiz e lo avrebbe trasportato fino a un cavalcavia, dal quale avrebbe voluto lanciarlo di sotto nel fiume Calore. Non ci sarebbe riuscito, per la reazione dell'allora 53enne gravemente ferito. A quel punto lo avrebbe lasciato nei pressi dello slingolo di Pau Pisi della 372, dove era stato poi ritrovato il soccorso. Il 38enne invece si sarebbe messo al volante della Matiz, che poi era stata intercettata e bloccata dalla postrada di Campobasso in un'area di servizio a Termoli. Ora nuovo appuntamento in aula a maggio prossimo. E' stato condannato dal tribunale di Salerno uno stalker che perseguitava la ex moglie inviando le versetti della Bibbia. Lasciato dalla moglie inizia a perseguitarla, minacce di morte, centinaia di messaggi con citazioni tratte dalla Bibbia. Un incubo per la donna, pedinata, picchiata per mesi. Il responsabile, un operaio salernitano, ha patteggiato la pena. 8 mesi di reclusione, questa la decisione del GUP del tribunale di Salerno. Lo stalker non si era rassegnato alla decisione della moglie di troncare la loro relazione. La vicenda risale al 2016, quando l'uomo, assiduo frequentatore di un gruppo ecclesiastico, ha iniziato a tormentarla, con citazioni tratto dal Libio di Siracide. Verrà l'ira del Signore, il suo sdegno si riverserà sui peccatori, il male si riverserà su chi lo fa. Questi sono solo alcuni degli sms inviati all'ex moglie, che disperata ha deciso di denunciare alle forze dell'ordine quanto accaduto. L'ex marito si recava anche sotto casa della donna, ossessionato dal fatto che lei potesse rifarsi una vita frequentando un altro uomo. Si appostava sotto l'abitazione, seguendola fino al luogo di lavoro. La fine di un tormento per la donna, in più di un'occasione minacciata di morte, aggredita anche in strada. Un'altra auto in fiamme nella Valle Caudina, dove nel Merino è finita, nei pressi del campo sportivo di Montesarchio, l'Audi Q3 del titolare di un ristorante, ma in uso al figlio, ingegnere presso la comunità montana del Taburno. L'intervento dei pompieri del distaccamento di Bonea non è riuscito ad evitare che le fiamme divorassero la macchina, parcheggiata davanti all'abitazione del proprietario. i carabinieri della locale compagnia hanno avviato le indagini sull'ennesimo incendio appiccato nel Sannio. E restiamo ancora a Benevento. Nicola Boccalone, per anni numero uno dell'ospedale Rummo, interviene sulla questione sanità nel Sannio e nell'Irpinia, confermando che con il nuovo piano sanitario per le zone interne ci sarà una importante perdita di posti letto. La perdita di posti letto è nero su bianco. Ne andranno in fumo 184, pari ad un plesso ospedaliero di media grandezza. Così come è certo che la realizzazione del polo oncologico presso l'ospedale Sant'Alfonso Maria dei Liguori a Sant'Agata dei Goti, in provincia di Benevento, sarà a spese dei posti letto dell'azienda ospedaliera Rummo. In pratica il governatore De Luca, con una mano dà e con l'altra toglie. Lo spiega con dovizia di particolari Nicola Boccalone, l'ex numero uno dell'ospedale Beneventano. L'ambito Avellino-Benevento esce con una riduzione dei posti letto. Un numero di posti letto in misura superiore di 184 unità rispetto a quelli previsti all'interno di questo nuovo piano che è stato adottato. Il termometro per valutare la quantità e la qualità dell'offerta al territorio di una prestazione sanitaria è nel numero dei posti letto. La particolarità è che si prevede un polo oncologico di valenza regionale utilizzando però i posti letto sostanzialmente del Rummo. Questo è il concetto. Quindi si va a calare un polo oncologico in un ambito in cui si riducono i posti letto. Quindi questo è sicuramente un elemento su cui riflettere. L'avvertenza ex Irisbus a Flumeri, la produzione degli autobus in questo stabilimento non decolla, mancano persino gli attrezzi per la lavorazione ed aumenta la preoccupazione dei lavoratori. Vediamo. Era stata ipotizzata una produzione di scocche con una capacità di 370 pezzi l'anno ma alla IA di Flumeri la situazione resta drammatica. La produzione degli autobus sembra essersi impantanata. 33 in totale, quelli prodotti lo scorso anno in condizioni lavorative assai precarie per Messina, Fermo e Taormina. 9 sono attualmente in produzione. La ristrutturazione dell'ex stabilimento Irisbus non è avvenuta. Un inverno amaro da dimenticare per i lavoratori. Rimasti al freddo e al gelo in fabbrica, mancano persino gli attrezzi per poter lavorare e diversi operai andati nel frattempo in pensione non sono stati finora rimpiazzati. Quello che noi vediamo è un futuro abbastanza complicato con questa zona ZES che sarebbe una cosa eccellente se funzionasse e non fosse una speculazione perché si sa che tutti i progetti che hanno fatto per il sud è stata solo speculativa. Hanno aperto dei capannoni, li hanno chiusi, hanno aperto da qualche altra parte per prendere solo i fondi e poi hanno lasciato per strada i cittadini di questo territorio. Oggi noi pensiamo che comunque con via vai di imprenditori che entrano ed escono da quest'area noi rischiamo di ritrovarci lo spezzatino che abbiamo debellato nel 2011 quando tutti ci volevano propinare industrie alimentari e quant'altro. Noi allora l'abbiamo debellato e abbiamo detto che dobbiamo fare auto. Che poi vengano qui ad investire altri imprenditori e che creano occupazione a noi non può fare altro che piacere però è che manteniamo la produzione degli autobus e con i livelli occupazionali. La tomba etrusca di Ponte Gagnano, un tesoro ancora sconosciuto ai più, potrebbe essere recuperata anche grazie al sostegno dei privati. Sentiamo. Poco meno di 8 mila euro per sensibilizzare enti privati e mecenati a finanziare il restauro della tomba etrusca a camera dipinta custodita nel Museo archeologico di Ponte Gagnano. La soprintendenza di Salerno ha presentato l'iniziativa prevista nell'ambito del progetto Art Bonus con importanti detrazioni fiscali per chi effettua una donazione. L'obiettivo è sensibilizzare tutti su un'opportunità non solo di tutela del patrimonio storico ma anche di valorizzazione turistica del territorio. Stiamo cercando di sfruttare questa legge 106 del 2014 che consente per le elargizioni liberali dei consistenti premi fiscali. Anche 100 euro possono essere utili perché sono finalizzate proprio a quel singolo intervento. In questo caso la tomba dipinta che è stata scoperta a Ponte Gagnano è che verrà restaurata e per la quale verrà creato un apposito allestimento all'interno del Museo di Ponte Gagnano. Ampliare le potenzialità del Museo di Ponte Gagnano aumentando quindi lo spazio espositivo. Per cui dopo questo restauro che prevederà una pulitura, un consolidamento e speriamo anche il recupero di alcuni dettagli delle pitture che attualmente non sono percepibili, ci sarà l'allestimento per l'appunto in questo spazio interrato avvalendoci anche di una serie di sistemi multimediali che quindi stiamo progettando. Ed è tutto per questa edizione. Il reggì Aldo Fenizia, grazie per averci seguito anche oggi. Vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.